Purtroppo l'episodio ha colpito enormemente la comunità. Vedere quelle immagini del nostro concittadino ridotto in quel modo ci ha veramente amareggiato. Siamo vicini a lui, alla sua famiglia e vogliamo mettere in campo tutte le azioni possibili per evitare che tutto ciò si possa ripetere. Rabia e dolore per l'aggressione subita da Sabato Fierro. L'85enne picchiato a sangue da tre malviventi nella sua casa di Celsia a Forino punito perché aveva riferito di non avere soldi. L'immagine dell'anziano con l'occhio dumefatto e volto pieno di libidi ancora tramortito per i colpi subiti ha indignato la comunità di Forino. I carabinieri hanno avviato la caccia alle belve battendo già l'altra sera tutta la zona al tappeto nel tentativo di risalire responsabili della brutale aggressione. Sabato Fierro vive da solo, gli acciacchi all'età avanzata lo rendono un soggetto vulnerabile. Non è la prima volta che la sua abitazione viene violata dai malviventi. Il pericolo è che altri sciacalli possano fargli del male. Va assolutamente protetto. Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, promette il suo impegno per tutelare l'anziano più volte facile vittima dei balordi. Come amministrazione comunale siamo consapevoli che una delle attività in primis da attuare è quella della videosorveglianza che non risolve il problema ma sicuramente pone un freno. Entro il 31 dicembre c'era il bando, abbiamo partecipato e speriamo vivamente che questa volta arrivino anche a Forino i fondi per realizzare questa infrastruttura. Per quanto riguarda invece la vicenda di Sabatiello ci sarà un'attenzione particolare da parte del Comune anche da parte delle forze dell'ordine? Sicuramente ci sarà un'attenzione maggiore al nostro concittadino perché come voi ben sapete non è la prima volta che è avvenuto tale fatto. Sono stati attenzionati i servizi sociali e i carabinieri della locale sezione seguono il caso con attenzione e sicuramente cercheremo di fare il massimo per trovare i responsabili. Intanto Sabatino resta là in quell'abitazione? Per il momento Sabatino resta là, quanto prima vorrei anche avere un confronto sereno con i propri parenti per capire se è possibile, come dire, dare un maggiore conforto a Sabatino.